14 giugno dopo le piogge e questo il primo speriamo che sia una bella giornata bene 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 spettacolo se per il giretto pomeridiano vediamo se le fugaie daranno ancora qualcosa il primo era lì così guardate qua a questa distanza guarda che bel boccio lì bello al pulito le fungaie oggi stanno facendo giudizio bene sempre belli pesanti bellissimo e sani soprattutto sani meglio pochi ma sani le piogge hanno abbassato un po le temperature ha fatto sì che sono ricominciati di nuovo i pinicola eccolo lì aspettavo i bianchetti e c'è il ritorno di questi spettacolo bellissimi dai sempre in fungaia fuori non c'è niente purtroppo era solo un'illusione a parte quei bei funghetti che ho trovato all'inizio poi basta il bosco lo zero completo non c'è niente non c'è crescita il bosco è bello è umido però niente neanche quelli bianchi giustamente qualche rosso e mi sa che sono proprio gli ultimi quindi penso che il bosco stia per cambiare speriamo che faccia ancora qualche temporale che rimanga un po umido e speriamo nell'uscita di quelli bianchi a questo punto va bene dai comunque cappotto l'abbiamo salvato anche oggi ok un saluto e alla prossima ciao 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 mi è scappato l'occhio siamo sulla strada siamo sulla strada guardate un po qua guardate un po qua dai chilometri del bosco non trovi niente poi sono sulla strada guarda è pazzesco pazzesco è belli freschi anche belli freschi anche bene 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 bello è un bel colpetto stessa fatica ciao e dai poi alla fine non sono non tanti però non sono neanche pochi per il giretto pomeridiano guardate qua tre cinque sei bene bene e voilà cavature indiretta belli 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 eh che pesano questi eh si pesano bel duetti sono bei tarelli bello ciao raga alla prossima mai fare i saluti prima di arrivare alla macchina guardate un po la non si vede perché da lontano ho visto quella chiazza bianca qua mangiata se no non l'avrei neanche visto e beh spero che sia bello fresco da rumore sembrerebbe di sì come il cavolo è fatto qua oh la la oh la la oppla è sano bello maturo e dai la ciliegina sulla torta questa volta ciao davvero ciao 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 ciao